Settimane di siccità rotte da violente perturbazioni. Un copione che si ripete con pioggia ma soprattutto vento che negli ultimi due giorni hanno sferzato le Marche accanendosi soprattutto sull'area costiera. Più di 50 gli interventi dei vigili del fuoco delle Marche, principalmente nelle province di Ancona e Pesaro Orbino. Medi di soccorso soprattutto chiamati in causa per rimuovere alberi divelti e rami caduti. A Pesaro e a Fano sono soffiate raffiche di grecale attestatisi attorno agli 80 chilometri orari che hanno fatto cadere motorini, stroncato piante e creato alcuni allagamenti. Vedi i sottopassaggi della Bicipolitana in zona sottomonte. Vegetazione scossa dal vento che ad esempio nel quartiere pesarese di Montegranaro ha tappezzato via Militegnoto dei frutti caduti dalla schiera di Pocastani che hanno letteralmente ricoperto l'asfalto. Pioggia incessante ma di un livello che fino a oggi pomeriggio si è rivelato meno critico del bollettino di allerta meteo diramato 24 ore prima dalla protezione civile delle Marche e valevole fino alla mezzanotte di oggi. Il livello delle precipitazioni è stato inferiore però a quello temuto e le piogge nelle Marche sono rimaste contenute sui livelli di cumulate compresi tra 50-60 mm senza arrivare agli 80-100 mm preventivati.